E' un PD più attento al mondo giovanile, alla base del Partito Democratico, quello reclamato a gran voce questa mattina dai giovani democratici durante il laboratorio di idee in movimento tenutosi presso l'aulamagna del convento della Santissima Pietà a Teggiano. Una classe dirigente che risponda alle tante esigenze e domande dei giovani che vogliono avvicinarsi al mondo della politica e seguire le orme del Partito Democratico. E l'appello questa mattina è stato accolto con entusiasmo da alcuni degli esponenti principali del PD salernitano e campano. Al tavolo dei lavori infatti hanno partecipato tra gli altri il senatore Michele Pinto, i consiglieri regionali Donato Piche e Antonio Valiante, il segretario provinciale Nicola Landolfi e il sindaco di Teggiano Michele Di Candia, che ha tenuto a congratularsi con i giovani democratici valo di Diano e in particolar modo per l'entusiasmo con il quale si stanno muovendo sul territorio le numerose iniziative promosse dal momento della Costituzione del Circolo Valdianese. Una nuova voce quindi si è elevata questa mattina dal centro storico tegianese che grida a gran voce il diritto di innamorarsi di nuovo della politica con la maiuscola. Resta ora da vedere se qualcuno avrà la forza di accogliere la sfida.